Ciao a tutti, ben ritrovati sul canale di El Pescador e oggi vi mostro una delle mie vasche. Questa vasca come modello è un Laguna 40 della Wave, ottima marca. Le misure di questa vasca sono 36 cm3, quindi 36 cm su ogni lato. Come illuminazione abbiamo quella in dotazione che sono 8 led da 0,5 watt ognuno. Questa è la luce che fanno, ottima illuminazione, perfetta per la crescita di qualsiasi tipo di piante da acquario. Come filtraggio abbiamo sempre quella in dotazione, io lo chiamo filtraggio a pioggia. L'acqua viene pescata da questo tubicino qui, sul lato. Viene convogliata da un filtro da 240 litri d'ora. Su questa parte è fatta passare da questo tubo, dove passerà prima dalla lana di roccia, quella bianca, per un filtraggio meccanico fine. E poi da cannolicchi ceramici o altre pietre porose utili per la filtrazione chimica dell'acqua biologica. E' un filtro buono per questa vasca, l'importante è ogni mese, mese e mezzo, comunque quando vedete che la lana è sporca, cambiarla. E i cannolicchi ceramici non si devono mai toccare. Come riscaldatore su questa vasca ho montato questo qui qua, che è un riscaldatore da 25 Watt, sempre della Wave. Mi trovo bene con questa marca di oggetti per acquari, dato che ha un buon rapporto qualità-prezzo. Questo riscaldatore serve per mantenere la temperatura costante, senza far subire sbalzi di temperatura, che ci possono essere dal giorno alla notte o dall'inverno all'estate. Ma anche se è un buon prodotto, mi affido sempre a un termometro per controllare se la temperatura è sempre costante. Come fondo uso principalmente due tipi di fondo, questo qua bianco che è nella parte più in basso, è un fondo fertile, utile per le piante che si nutrono dalla parte delle radici. E' un fondo della tetra, ottima marca, in particolare il tetra complete substrato. E' un fondo che non va lavato una volta aperto, va solo posizionato nella vasca e funzionerà per anni. O comunque, in caso vedete che le piante con apparato radicale iniziano a soffrire, basta mettere delle pastiglie di fertilizzante. Ma ciò in questa vasca è attiva da ben tre anni. Non ho mai notato, dato che ho pochissime piante che si nutrono dalla parte radicale. O comunque, sono abbastanza lente nella crescita e quindi durano anche più di tre o quattro anni il fondo. Sopra questo fondo abbiamo questo ghiaino nero della Amtra, ottima marca, ha un costo relativamente basso. Si sceglie un colore sempre scuro per non far riflettere troppo la luce che disturba la vista ai pesci e rischia di bruciare le piante per la troppa illuminazione. E io ho scelto questo colore nero. Iniziamo dalle piante, abbiamo diversi tipi di piante a crescita bassa, quindi lenta, media e veloce. Come piante a crescita lenta abbiamo della Nubias barterinana, questa sul cocco, della Nubias gigantea, che è la stessa variante ma fa solo foglie più grandi, ma sempre crescita lenta. Come piante a crescita medio-rapida abbiamo due criptocorine sui lati della variante brown e un crinium calamistratum nella parte centrale come pianta dominante. Il crinium è una pianta non molto trovata dentro i negozi, dato la forma a spirale, a me invece piace tantissimo. È una pianta anche che contrasta con il suo colore scuro, cresce mediamente, come pianta è una pianta che cresce in modo medio. Forma queste lunghe spirali e dopo un tot di anni che cresce può iniziare a stolonare, cioè a creare una nuova pianta in giro per la vasca. Come altre piante a crescita rapida abbiamo dei ciuffi di linnofila sessiflora, questa qui che cresce in questo lato e là dietro. Questa pianta è facile da coltivare, non esigente come nutrimenti e contrasta anche la formazione delle alghe. Come altre piante non meno importanti e per me, secondo il mio punto di vista, le più utili, abbiamo delle piante galleggianti, io ne ho di due tipi. Abbiamo della pistia stratoides, questa qui più grande, molte piante, e della lemna minor o lenticchia d'acqua, questa qua più piccolina. La pistia forma delle lunghe radici, queste qui che vedete calare dall'alto, mentre la lemna delle piccole radici qualche millimetro. Queste piante, avendo una crescita velocissima, praticamente invasiva come pianta, contrastano le alghe in modo molto efficiente. Come pesci abbiamo una coppia di Betta Splendence, qua la femmina è una Vailtail Marble tendente al bianco, e qua dietro abbiamo un bel maschietto, ed è un Half Moon Plakat colorazione Koi. Questo qui si sta venendo qua davanti. Come altri pesci abbiamo cinque coppie di Puntius Titeia, questi. Abbiamo cinque maschi e cinque femmine. Le femmine sono queste qua tendente all'arancione con la parte inferiore del ventre bianca, mentre i maschi sono questi color totalmente rossi, molto più snelli e con pinne leggermente più lunghe. Come ultimi pesci, non meno importanti, abbiamo degli Otocinclus a Finis. Sono piccoli pesci che si nutrono principalmente di alghe. In questo momento sono alla ricerca di cibo e principalmente escono la sera. Sono i cosiddetti pesci pulitori, anche se non mi piace questo termine. Per quanto riguarda i valori dell'acqua, abbiamo un pH di 6,5, un GH di 8,5, un KH di 7, NO2 a 0, dato che sono altamente velenosi per i pesci, e NO3 io li tengo sugli 0,30, dato che è un ottimo compromesso tra resistenza dei pesci e utilità per le piante che lo trasformano in elementi utili. Come temperatura abbiamo già detto sui 25-26 gradi fissi. Come valori dell'acqua mi aiuta molto l'effetto ambrato del legno, questo piccolino è quello più grande, che sono due legni mopani, poi uso piccole pigne di ontano, che aiutano all'antibattericida naturale e un antimicotico e anche donano un effetto ambrato che non fa stressare i pesci. Come decorazioni ho deciso di usare principalmente tre tipi di decorazioni, cioè una piccola decorazione artificiale che mi piaceva molto, che è un teschio di coccodrillo, un cocco tagliato da me, formato una piccola tana, serve principalmente come nascondiglio per i pesci e dei legni che servono come sostegno delle piante e come ambratura dell'acqua. Al prossimo video faremo vedere come fertilizzo le piante, se vi interessa come argomento. Grazie a tutti per aver guardato questo video, condividete con i vostri amici tutti i video sul canale, commentate con argomenti che vorreste vedere in futuro, lasciate like e iscrivetevi al canale. Grazie a tutti per aver visto questo video dal pescador. Grazie a tutti per aver guardato. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.